Ha lasciato tutti a bocca aperta, almeno quelli presenti ieri che hanno visto passare questa bella ragazza completamente nuda nella spiaggia antistante al locale 4 quarti a Marina di Ragusa. Una ragazza completamente nuda che con tanta naturalezza e disinvoltura passeggiava in spiaggia tra decine di persone che non sono riuscite a non filmarla. Ed ecco che il nudo inaspettato di ottobre in spiaggia diventa notizia. Un video, questo video, circola su decine e decine di Whatsapp raccogliendo commenti, tutti da immaginare. Della ragazza vista girare nuda sembra ormai leggenda, di cui non si sa nulla. In molti associano, quanto visto, a una delle modelle che stanno in questi giorni partecipando al laboratorio di fotografia del nudo al castello di Donafugata, chiuso apposta al pubblico e promosso in ambito locale dal celebre fotografo Giuseppe Leone. Intanto, come accennato, la scena è diventata di dominio pubblico ed anche una celebrità, la mano di chi ha premuto il rec, così come i suoi commenti. Da quattro quarti, che cos'è, già 7 ottobre, c'è una che camminano ora. Così, dal nulla.